Benvenuti a questo special di 3 minuti per la tua salute, è sostanzialmente l'avvisarvi, il rendervi noto che la settimana prossima, adesso che sto registrando, c'è il martedì 21 di febbraio alle ore 9 al centro culturale Leonardo da Vinci, si terrà il terzo convegno sul ciberbullismo, abbiamo iniziato due anni fa con il bullismo, l'anno scorso abbiamo fatto il ciberbullismo, quest'anno ritorniamo sul ciberbullismo dedicando tutta la mattinata agli studenti delle medie, sono stati invitate i ragazzi delle medie di tutti i tre, i circoli di tutti i tre, i compensori, sfisceremo questo problema sia come abbiamo fatto l'oltre scorsa con le forze armate, ci sarà il comandante dei carabinieri, però ci saranno dei relatori insegnanti, i presidi di alcuni istituti di San Donà, ci saranno persone che hanno avuto questo problema, in modo particolare avremo ospite, non è riuscito a venire ma sarà presentato via Skype l'intervista con il signor Picchio che è il papà di quella ragazzina che si è suicidata proprio per un problema di bullismo un anno fa, mi pare il primo o il 2 di gennaio dell'anno scorso a Novara e lui è stato contento di partecipare al nostro convegno chiedendo sia di dire 10-15 minuti, ma anche di interagire con i ragazzi delle medie in sala per spiegare quelli che sono i problemi e le difficoltà che hanno i ragazzi, è chiaro che noi non risolveremo il problema, però cercheremo di dare un aiuto, porteremo ai ragazzi alcuni, non dico alcune soluzioni, alcuni avvertimenti in maniera da poter dargli una certa sicurezza e cercare di fargli capire che possono vincere questo problema. Novità rispetto ai due anni precedenti è che il giorno successivo, il mercoledì 22 alle 20 e 30 all'aula magna della scuola Romolo Honor ci sarà un incontro solamente con i genitori, i genitori non solo delle medie se voglio dire ma anche delle scuole elementari, in maniera che quello che è importante bisogna capire i ragazzi, devono capire e cercare di aiutarsi a vicenda, però gli insegnanti e i genitori, la famiglia devono essere il vero supporto per questo problema che sta diventando sempre più importante. Quindi è un invito a tutti di chi può viene, chi non può tenete presente che sarà trasmessa in diretta streaming dalla Dacos Informatica come l'anno scorso, quindi potrete vederla anche seduti comodamente a casa, ci sarà qui la nostra televisione Piave TV che mostrerà le immagini e vi faremo vedere un attimino il convegno e quindi cercate di vedere e di trarre l'utilità che noi speriamo di dare a voi. L'organizzazione è nostra del ponte e poi della PS, Hermes, delle psicologi come negli anni passati. Grazie a tutti.